La prevenzione scende in spiaggia con l'Unione Italiana Cecchi Povedenti di Campobasso, riuscita l'iniziativa organizzata nel fine settimana a Termoli, dove in tanti hanno partecipato ai controlli gratuiti, non solo della vista ma anche dell'Udito, un evento organizzato in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e l'Associazione Hauser. Diversi volontari che hanno collaborato e accolto i turisti, che nella sala dell'Idola Piovra si sono sottoposti ai controlli effettuati dall'oculista della ASREM Adalalli, ribadita l'utilità di iniziative come queste che consentono di evidenziare anche possibili fattori di rischio e di fornire informazioni su alcune patologie come la retinopatia diabetica. Il presidente Wici per la sezione di Campobasso, Gaetano Accardo, ha ringraziato i medici, i volontari, il personale che hanno collaborato anche durante la giornata di prevenzione organizzata nel capoluogo. Un impegno, quello dell'Associazione, che continuerà anche nei prossimi mesi e sono già diverse le iniziative in programma per coinvolgere anche i centri più piccoli nelle campagne dedicate ai controlli gratuiti.